Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo della situazione Covid in Campania. Ieri il presidente De Luca si è detto soddisfatto per il milione di vaccini effettuati nonostante i ritardi dovuti a dosi mai arrivate e personale sanitario sottodimensionato. Passiamo alla politica cittadina. Dopo la bagarre in consiglio comunale Luigi Caldarolo replica le dichiarazioni del presidente Fruglio. Si punta ad opere pubbliche e all'assunzione del personale, lo ha affermato l'assessore al bilancio Anarito Ottaviano, quest'oggi alle telecamere di TV City. Mancata pulizia delle strade ed erba alta, abbiamo accolto ai nostri microfoni la denuncia di un cittadino torrese. Infine spazio allo sport con la Turris vicina alla salvezza. Domenica alle 15, match fondamentale contro la Ternana. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Continua lo screening vaccinale di massa in Campania. Negli ultimi giorni il presidente della regione, Vincenzo De Luca, si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora, nonostante i ritardi dovuti a dosi mai arrivate e personale sanitario sottodimensionato. Per quello che ci riguarda dobbiamo ancora recuperare 176 mila vaccini in meno che hanno mandato in Campania. Ricordiamo sempre i nostri concittadini, e su questo dovremmo essere uniti come sono uniti al nord, che oggi la Campania è la regione più penalizzata d'Italia, perché abbiamo 15 mila dipendenti in meno rispetto alla popolazione. Abbiamo la dotazione minore d'Italia del Fondo Sanitario Nazionale e adesso abbiamo aggiunto anche 176 mila vaccini in meno, quindi quello che facciamo in Campania è un miracolo. Il governatore ha risposto alle domande dei cronisti, ritornando sul tema delle vaccinazioni. Pfizer è stato analizzato in due settimane, non vedo perché lo stesso non si può fare con Sputnik. Il contratto è regolare e ci permetterebbe di vaccinare tutti in tre mesi, ha dichiarato De Luca, il quale su AstraZeneca dice. Comprensibili i dubbi dei cittadini, la comunicazione è stata pessima, ma senza vaccini non si riapre. Intanto la Campania raggiunge quota un milione di vaccini somministrati, lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile nella giornata di ieri. Di questo milione di vaccinati sono 726 mila i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, mentre ad altri 274 mila è stata somministrata anche la seconda dose. La fetta più grande di vaccinati dal bollettino di ieri vede gli over 80 in testa per il maggior numero di dosi ricevute, quasi 300 mila. Seguono quindi gli operatori sanitari e gli OSS, di poco sotto le 200 mila dosi ricevute. Restano basse le vaccinazioni tra le forze dell'ordine e soprattutto i soggetti fragili. Su 88 mila persone che hanno ricevuto la prima dose, appena 366 hanno ricevuto la seconda, che garantisce l'immunizzazione all'infezione da Covid-19, scatenata dal possibile contagio dal virus che ancora oggi continua a viaggiare sopra la media in Campania. Solo ieri quasi 2 mila nuovi casi di contagio, con incidenza pari al 9,12%. Nei giorni scorsi tensioni in Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio. Cosa è successo? Facciamo il punto della situazione con il Consigliere Comunale Luigi Caldarola. Mi dispiace dover ritornare sull'argomento, ma è stato quasi doveroso una replica a quella che è stata quella del Presidente. In realtà in Consiglio Comunale è stato un episodio dettato da un momento di tensione dovuto a una mancanza del rispetto del regolamento comunale, perché in realtà in quel momento è stato lese un diritto non solo a me come Consigliere Comunale, ma all'interassise, perché non è stato possibile avere un parere da un organo, che è quello dei revisori contabili, che è un organo fondamentale, soprattutto in un momento di approvazione del bilancio, che voglio ricordare è l'atto fondamentale di un'amministrazione in cui si dettano e si cerca di delineare la linea e la prospettiva della città. Cos'è che ha scaturito il suo dissenso? Il mio dissenso è dovuto al fatto che costantemente il Presidente del Consiglio Comunale viola il regolamento. In realtà ad oggi posso affermare con certezza che il Presidente non è più un Presidente super partes, anzi è un Presidente di maggioranza, di quella maggioranza che ho definito più volte e continuo a definire abusiva, perché il Presidente non usa due pesi e due misure. In realtà imbavaglia l'opposizione cercando in qualunque modo di non farci parlare e toglierci la parola. Questa è la verità. Il Presidente oggi non è più super partes, anzi gli faccio un invito, visto che lui è stato eletto con quella maggioranza che era legittimata, con quei voti di quella maggioranza legittimata, si vada a dimettere e dia la possibilità all'Aula, alla sua maggioranza attuale, di riproporlo come Presidente e di essere garante di nuovo del Consiglio Comunale. Lui non solo viola il regolamento del Consiglio Comunale, perché quando mi allontana io non sono stato regadarguido per la seconda volta per iscritto a verbale, vengo allontanato senza subire il secondo ammonimento. Come è possibile vedere dei video dell'emittente che stava trasmettendo. Quali sono le tre pregiudiziali proposte? Allora, la prima delle pregiudiziali era una pregiudiziale riferita alla pubblicazione degli atti. La seconda pregiudiziale che abbiamo posto è che l'assessore ai lavori pubblici attuale in carica è comunque in una condizione di conflitto di interessi politico, perché ha votato quella delibera di bilancio e ha violato l'articolo del Tuel che non consente a coloro che hanno dei parenti fino al quarto grado di prendere parte a delle votazioni che possano condizionare l'indirizzo dell'amministrazione. E la terza è proprio quella che citavo prima. Nella delibera 367 di Giunta Comunale, che è una delibera allegata al bilancio in cui vengono espressi gli agenti contabili, l'amministrazione comunale ha provveduto con successiva delibera a trasferire e quindi a rendere manchevole quella delibera uno dei soggetti che era stato individuato. Ebbene, io ho chiesto in Consiglio Comunale se i revisori contabili fossero a conoscenza di questo trasferimento e se questo trasferimento avrebbe potuto in qualche modo condizionare il loro parere che era stato reso nei tempi utili e che comunque in quel momento poteva delineare una probabile non veridicità degli atti che gli erano stati sottoposti. Crede che però queste discussioni così animate agli occhi dei cittadini possano minare la fiducia delle istituzioni? Assolutamente sì, però la verità va detta. Le discussioni nascono perché non c'è la possibilità di avere le delucidazioni necessarie confessare agli atti del Consiglio Comunale. Questa è la verità del perché poi si alzano i toni in Consiglio Comunale perché è sotto gli occhi di tutti che da quattro consigli comunali costantemente viene violato il regolamento e vengono violati gli statuti. Tanto è vero come è possibile evidenziare dai video. Ci sono delle persone che inviscono non solo contro di me ma contro l'intera assise dicendoci delle ingiurie e minando la credibilità del Consiglio Comunale. Questi sono gli atti che il Presidente del Consiglio dovrebbe controllare e non venire a dire che l'opposizione si organizza per sobbillare il Consiglio Comunale perché non è così. Noi semplicemente stiamo cercando di far rispettare le regole e chiediamo di avere la possibilità, così come dà la possibilità ai consiglieri di maggioranza, di ricevere tutte le spiegazioni del caso così come la legge ci chiede. Nell'ultima animata seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2021. Assessore Ottaviano, un bilancio essenzialmente tecnico? Sì, un bilancio tecnico che risponde a tutti i requisiti che il Tuell ci obbliga a rispettare. Un bilancio che si chiude con un avanzo in amministrazione, quindi un bilancio in equilibrio, un comune non indebitato con un indice di indebitamento bassissimo dove praticamente tutte le attività sono finanziate, soprattutto le opere pubbliche, sono finanziate o con trasferimenti dello Stato, quindi attraverso il reperimento di risorse prevenienti della Regione da progetti europei, oppure sono finanziate con l'avanzo di amministrazione senza ricorrere a mutui. Un bilancio in cui la volontà del Sindaco è stata quella di assumere finalmente del personale perché Torre del Greco è la quarta città della campagna in cui l'organico è ridotto all'osso e per ripartire, per porre in essere tutti i progetti necessari per far ripartire la città è necessario adotare anche i singoli servizi, i singoli uffici del personale adeguato per poter attuare i progetti in essere. Quindi i punti nevralgici sono appunto quelli relativi all'assunzione del personale e alle opere pubbliche? Sì, ho un'assunzione del personale, quest'anno già nel 2020 sono state assunti circa 22 figure professionali perché il Comune ha partecipato al progetto RIPAM della Regione Campania sono previste altre 29 assunzioni di categoria sia C che D. Altro punto tassello importante di questo bilancio sono le opere pubbliche sia le opere pubbliche finanziate nel passato attraverso i fondi PICS che delle nuove opere pubbliche che questa amministrazione ha previsto di portare avanti nel prossimo triennio come già abbiamo visto nel DUP appena approvato nello scorso dicembre. In particolare di quali opere pubbliche si tratta? Si parla della riqualificazione della strada che porta a Villa Sora, della riqualificazione degli uffici scolastici, riqualificazione della litorania e poi non dimentichiamo che da poco attraverso l'assessore Gennaro Polichetti è stato approvato il PUC e quindi il PUC rappresenta proprio la riqualificazione, il nuovo volto della città di Torre del Greco dove è prevista, cioè il fiore all'orchiello del PUC è proprio la riqualificazione del porto e la riqualificazione della litorania, quindi si cerca di dare un nuovo volto alla città di Torre del Greco. Quindi un rilancio che passerà proprio dalle opere pubbliche ma anche grazie all'assunzione del personale che sarà propedeutica ad una nuova futura programmazione. Certamente perché senza il personale non arriviamo da nessuna parte altrimenti avremo degli uffici che sono soltanto delle scatole vuote e programmeremo senza poter portare avanti le opere che abbiamo programmato. Quindi le assunzioni sono un tassello importante per il Comune di Torre del Greco. Quindi in definitiva Assessore Ottaviano lei è soddisfatta di tutto il lavoro che ha portato a questo bilancio. Abbastanza soddisfatta, certamente si può sempre migliorare anzi se raggiungiamo la perfezione voglio dire che è finita quindi bisogna sempre migliorare e cercare di fare le cose al meglio. Quindi grazie all'assessamento, alle operazioni di bilancio, al riequilibrio e quant'altro abbiamo un anno avanti ancora con la nuova giunta di poter riprogrammare ancora nel migliore dei modi nella nostra città, i nostri programmi, ascoltando i consiglieri, ascoltando l'aggiunta di consigliere e quindi in sinergia con tutti poter fare delle ulteriori opere, apportare ulteriori miglioramenti qualora ci fosse bisogno. Ancora disagio a Torre del Greco, soprattutto per quanto riguarda l'igiene urbano nelle periferie. Raccogliamo oggi la denuncia del signor Santoro, del sindacato Sunì. Torre del Greco lascia molto desiderare per quanto riguarda pulizia, diserbamento, disinfettazione. Abbiamo alcune zone in fase da ratti e da conigli. Quali zone? A zone particolarmente via l'Europa, là dove dovrebbe sorgere il campo sportivo, c'è dei roveri alti, oltre i due o tre metri di altezza, non vengono fatte delle pulizie, né pulizie, ripeto, tagliare, né tampocco fare diserbamento. E disinfettazione. A vedere sono dall'amministrazione comunale queste problematiche? Sì. Ho chiamato variate volte i funzionari, però niente da fare. Non ce lo fanno passare neppure per la testa. Ci sono anche altre zone oltre via l'Europa? C'è via Litorania, c'è via Sant'Antonio, via Lombardia, che sono delle case popolari, via San Gennariello, che è completamente in abbandono a lasciare. Quali sono i lavori necessari che vanno fatti in tutte queste zone? E' diserbamento la prima cosa, e poi disinfettazione, deratizzazione. La punta degli alberi, chiaramente, e non devo parlarne, perché si vede che gli alberi che devono essere putati, non vengono, tutti i cittadini li vedono queste cose. Per quanto riguarda invece la questione dei rifiuti in queste zone? Lascia molto desiderare, molte volte veramente via l'Europa, adesso pare che stiano facendo qualcosa, però molte volte, di domenica, si passa con dei rifiuti in mezzo alla strada, via nazionale, la stessa cosa. Come lei, anche altri cittadini si sono lamentati per questa situazione? Come no, tutti i cittadini, e chi è che non lo vede? La sconfitta della Cavese nel recupero infrasettimanale contro la Ternana regala alla Turis il primo matchball per raggiungere già domenica prossima la salvezza matematica. La squadra corallina, meno di un clamoroso recupero dei metelliani, non dovrebbe più avere l'incubo play-out anche se dovesse finire quint'ultima. L'unica preoccupazione resta la possibile rimonta della Paganese, che dista dalla Turis 8 punti. Agli un indica ne abbasta una vittoria contro la Ternana già vincitrice del campionato e una contemporanea non vittoria della Paganese contro il Monopoli per tagliare il traguardo, altrimenti sarebbe tutto rimandato al turno successivo. La partita sarà anche occasione per le due società di ricordare Corrado Viciani, grande ex rosso-verde. È stato tecnico della squadra Umbra, ma anche dei corallini nelle stagioni 86-87 e 90-91, conseguendo sempre una miracolosa salvezza. Il match sarà arbitrato dal signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini, coadiuvato dai guardarine Fabrizio Giorgi di Regnano e Massimiliano Bonomo di Milano. Il ruolo di quarto ufficiale, invece, è affidato all'arbitro Mario Vigite di Cosenza. Fischio d'inizio domenica alle 15 allo Stadio Liguori. Grazie per la cortese attenzione e per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!